Mentalismo è vita quotidiana. Oggi parliamo di un classico problema della convivenza. Chi lava i piatti? Forse Thomas Lopez ha visto l'episodio 74 di questa serie dove parlavo della gestione dei bivi nel mentalismo. Eccolo all'opera mentre offre a suo marito Guillermo la possibilità di vincere 50 euro o di mettersi al lavoro. Baby, hai bisogno di scelere un numero tra uno e uno. e due, se lo chiedi la buona, vedi 50 euro. Se lo chiedi la buona, vedi la testa sospita, ok? For reale? Yes. Mi racconti? Mi racconti. 1 Ahhhhhh, hai perduto. Ahhhhhh, è vero. Let's gooo. Un'altra, baby. Hai, 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 hai. Grazie a tutti